Nella settimana appena conclusa nuovi positivi in Sicilia sono 1973, il 25,8% in meno rispetto alla settimana precedente quando si era registrata una diminuzione del 6,3% e l'incremento settimanale più basso allo scorso mese di ottobre. L'Ufficio Statistica e il Comune ha reso noti i dati relativi all'andamento della pandemia e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile. La settimana appena conclusa, sottolinea Girolamo Danneo, responsabile dell'Ufficio Statistica, ha fatto registrare dati molto favorevoli in termini di riduzione dei nuovi positivi, dei ricoverati e dei deceduti, anche se è aumentato rispetto alla settimana precedente il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero degli attuali positivi è pari a 7.971, 1.912 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.545, 1.789 in meno. I ricoverati sono 426, di cui 44 in terapia intensiva. Sono diminuiti di 123 unità, anche se nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva, più 27,3 rispetto agli 11 e la settimana precedente. Il numero dei guariti 213.680 è cresciuto di 3.831 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 93,9%, era il 93,0 domenica scorsa. Il numero di persone decedute registrato alla settimana è pari a 54, la settimana scorsa 80. Complessivamente le persone decedute sono 5.873. Il tasso di letalità deceduti in totale positivi è pari al 2,6, come domenica scorsa. I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,3% degli attuali positivi, i ricoverati in terapia intensiva allo 0,6.